Il cristiano deve essere testimone della luce ricevuta nel battesimo e deve avere un cuore aperto e magnanimo che si lascia guidare dallo Spirito Santo e accoglie tutti con generosità. Lo ha detto Papa Francesco nell'omilia della Messa del Mattino preseduta a Casa Santa Marta commentando il brano del Vangelo di Marco proposto dalla liturgia. Presenti alcuni sacerdoti che hanno festeggiato col Papa i 50 anni della loro ordinazione. Il cuore cristiano è magnanimo, è aperto sempre. Non è un cuore che si chiude nel proprio egoismo o almeno si misura fino a qui, fino a qua. Quando tu entri in questa luce di Gesù, quando tu entri nell'amicizia di Gesù, quando ti lasci da guidare dallo Spirito Santo, il cuore viene aperto, magnanimo. Il cristiano in questo punto non guadagna, perde. Ma perde per guadagnare un'altra cosa. E con questa, diciamo, per virgolette, sconfitta di interessi, guadagna. Gesù guadagna. Gesù guadagna essere testimone di Gesù.